capitolo secondo in cui il mago baol racconta la sua triste storia e come previsto si mette negli guai non esiste l'impossibile l'impossibile non esiste baolian libro quinto versetto 154 156 io non so se dio esiste ma se non esiste ci fa una figura migliore galles ha un cliente aprile 1984 sono passato dalla stazione forse volevo partire o sognare che arrivasse qualcuno ho comprato un a un chioschetto un panino di vorrei essere formaggio e magari fossi maiale e quattro bonsai di fermet e mi sono seduta a guardare il transito passavano giapponesi zainuti che reggevano sulle spalle sacche enormi contenenti forse un altro giapponese pronto a dare il cambio i perborei con lunghe gambe color mazzancolla tedeschi con valigie addestrate che li seguivano su rotelline americani con cartucciere di carte di credito e insieme a loro emigranti e immigranti frullati da ore di treno con mogli omofone o allofone nonne pelle rossa fili meticci biondi con sopracciglia nere e felidi rosse su volti mediterranei vergogna e orrore per le lighe della difesa della razza e del mattone e poi una ventina di ultra che augurava morte e menischi a una squadra rumena e diverse tribù di estracomunitari che cercavano un posto da dormire per la notte è arrivato un cellulare di poliziotti e hanno cominciato a controllare i documenti ogni tanto sbattevano dentro qualcuno due negretti hanno cercato di scappare mi sono sfrecciati davanti uno ha perso una scarpa li rincorrevano due o tre ramboidi dotati di manganello ho eseguito il primo trucco barol che ho imparato nella mia carriera lo sgambetto mi è riuscito dopo è toccato a me di sfrecciare ora sto all'apocalizzo col fiatone steso su una sedia come un pugile alla quindicesima ripresa galles mi guarda preoccupato e litiga con i clienti la voce di grappa tax mi risuona nella testa al diavolo uno non può fare l'eroe tutta la vita anzi il più delle volte non può farlo per più di dieci minuti certo in quei dieci minuti si vedono le cose diversamente stasera la città è elettrica ci sono un concerto rock il motor show e una esecuzione c'è molta gente venuta da fuori i preti pazzi hanno invaso le strade riscandendo slogan contro la corruzione dei costumi nel quartiere blu hanno ucciso una donna per rossetto non regolamentare davanti al palace vanesium dove c'è il concerto un cantante è stato ucciso da una macchina lanciata dal tetto di una casa era il cantante preferito dei social loschi ed era il sedicesimo nella classifica mensile di popolarità si sospetta che l'autore dell'attentato sia il numero 17 un noto industriale velista farebbero qualsiasi cosa per salire in classifica così ora c'è molta tensione e si spara da ristorante a ristorante è passata un'ora galles per tirarmi su mi ha preparato un gordon pym ghiaccio gin e fernet bianco una delizia mentre tra cannavo mi è sembrato di vedere un bruco alto e verde che mi spiava tra le macchine posteggiate nel giallo malaticcio che piove dall'insegna dell'apocalipso è entrato un gruppo di ragazzetti acid vestiti da cicloturisti e facevano un gran casino allegro ma sempre casino poi è entrata una vecchia con chitarra elettrica e con l'amplificatore si è messa a cantare quella maledetta canzone piena di ricordi mi han detto che ti piacciono i ragazzi col ciuffo mi han detto che ti piacciono i tipi come me perché sono finito qui quando è che le cose hanno cominciato andare storte lei era alta e bionda anche se portava i talchi ed era tinta era una grande prestigiatrice sapeva distrarre il pubblico un sorriso una vampata di capelli un metro e mezzo di gambe ma era brava proprio brava viaggiamo insieme per qualche anno ci amavamo facevamo l'amore dappertutto a me piaceva la riva del mare a lei gli autoscontri un giorno la nottò un selezionatore del regime un tippaccio con moccasini di visone e un orologio digitale antisismico battipelagico con l'orario delle maree delle comete ma devo interrompere la love story il bruco è entrato e mi guarda caro carissimo quanto tempo che non ti vedevo zèi un bosbro o sbaglio non ci metto molto a capire chi è il bruco sono i tre nani uno sopra l'altro infilati in una palandrana verde quello in cima è raul chi è lei dico facendo finta di niente mi chiamo mister triplex strizza l'occhio raul e mi hanno detto di parlare come un signore raffinato prende qualcosa mister triplex spazzola nove brioche a tre livelli e mi guarda con sei occhi indagatori allora che si va dice chi vi ha detto che si fa guardi come si è ridotto per averci detto di no lei è dei nostri bedrosi anmelchia de baol ho detto di no ha detto di no ma noi abbiamo capito che era sì sospiro hanno ragione gli gnocchetti va sempre a finire così e va bene aiuterò grapatax come dice il baolian la vita è come l'anticamera di un dentista c'è sempre uno che sta peggio di te per prima cosa osservo ci vorrebbe una mappa del posto abbiamo di più dice bobo sporgendosi dal cappotto abbiamo dei collegamenti parecchi amici uno anche e sotterranei dell'inferno questo è il nome del tuo primo collegamento dice nick sbucando raso terra e porgendomi un bloc notes imparo la memoria e poi ingoia tutto dammi solo il foglietto col nome dico io non ho appetito auguri amico baol dice raul solennemente porgendomi la mano di bobo con il tuo aiuto sono certo che vinceremo e abbatteremo il regime tiranno di tattorialcini con l'usis lussista e la sua oppressione capitalista zanniformatico grovigliocato di copanica quella mattina parecchi gerarchi si svegliarono di malumore muc gerarcha dei preti pazzi aveva di nuovo fatto un sogno erotico e aveva bagnato il letto il soffitto e le guardie del corpo badaloni gerarcha dei manageri di dio era stato avvisato che il prae in sull'autostrada la prima turbo chiesa era stato distrutto in una rissa tra i fedeli che parcheggiavano per la messa d'antuan gerarcha dei vecchi rampanti si era svegliato col lifting esploso e non aveva neanche i pezzi numerati enea leader dei giovani rampanti per tutta la notte aveva chiesto la mano di aldo brandina figlia del re della bachelite e dopo averlo ottenuta aveva appreso che le azioni della bachelite erano scese di 3,4 punti mentre erano salita del 7,6 quelle della sua ex fidanzata olga figlia del re dei pomodori bazzuro leader dei buffoni di regime aveva saputo che la sua audience televisiva era scesa 80 e aveva avuto un rialzo di pressione a 220 e quando poi era venuto a conoscenza che il compenso del suo rivale crapulo era stato aumentato a 240 aveva avuto un crollo di pressioni a 30 e gli erano state ordinate 100 gocce di coramina 10 giorni di riposo e 300 milioni di penale birone leader dei moralisti rimborsati era stato alzato tutta notte per scrivere una stroncatura del libro di un giovane scrittore accorgendosi solo alla fine di avere scritto lui la prefazione bucci leader degli intellettuali sublimi aveva visto bocciati tutti e tre i suoi slogan per una marca di fusilli andriapoulos il gerarca dei killer professionisti aveva passato tutta la notte alla finestra cercando di sparare i travestiti ma non ne aveva beccato nessuno ma era soprattutto enoch il gran gerarca degli industriali ad avere passato la notte infame nel suo bunker al centesimo piano dell'hotel royal enoch alle tre gli era arrivata la notizia che due sue petroliere si erano scontrate erano già dieci in un solo mese lo facevano apposta esiste forse una stagione degli amori in cui le petroliere si accoppiano in preda a questi dubbi insonne agitato aveva per sbaglio fatto scattare il segnale d'allarme del bagno quattro guardia del corpo erano piombate dentro ed essendo il bagno rivestito di specchi si erano sparate addosso alle quattro gli era giunta la notizia che il centro avanti della sua squadra di calcio il celebre kebernov si era rotto una tibia giocando a streghe in alto con i compagni allora guardò la tv e i programmi non gli piacquero c'erano smagliature nel palinsesto quella si coglievano sfiducia e tetraggine noia e persino orrore sofferenza nella pausa di un incantante nella mezza frase di un intervistato nell'occhiata di un giornalista dov'era l'eofaria del terzo paese più ricco del mondo sabotaggi sazietà virus si fece passare subito al telefono il compositore capo baldini ma baldini non rispose rispose mazza capo della sicurezza interna dunque ha già saputo disse mazza saputo cosa il compositore capo baldini è stato trovato morto un'ora fa davanti al suo monitor sospettiamo un attentato l'arma una bomba o un coltellino a svizzero molti usi dobbiamo sostituirlo subito disse enoc non possiamo lasciare scoperto quel settore un solo momento che ne dice di atarva con tutto il rispetto non sono d'accordo perché per il suo passato il passato come lei sa e come certi torturati è duro a morire la lampadina della mia camera d'albergo si è fulminata o forse si è uccisa illuminare posti come questo deve essere durissimo perciò leggo il giornale con un po di luce prese in prestito dalla strada leggo del premio dei premi e della sicura presenza di tutti i nostri beniamini per regalarci una serata indimenticabile leggo di un aereo caduto in circostanze misteriose dieci anni fa cui è stato abbinato il concorso chi l'ha abbattuto cronaca cittadina un brete pazzo e penetrata in una clinica per aborti ha mitragliato un intero reparto ha detto che lo guidava alla voce di dio anche io avevo un amico così ogni tanto sentiva venire dal cielo la voce di dio che cantava lucille di little richard allora doveva balzare in macchina e fiondarsi in autostrada ai 180 fin quando la voce non smetteva però lui non ha mai ammazzato nessuno tolti quei tre quattrocento gatti ho avuto molti amici strani i baol fanno amicizia in fretta perché una delle prime cose che insegnano al tempio è come attaccare discorso con chiunque è facile specialmente di questi tempi l'ultima cosa che leggo è l'elogio funebre di un noto torturatore un mondo di tribù dove ognuno piange i suoi morti un baol deve odiare i nemici la dottrina baol non è chiara a questo riguardo la nozione stessa di baol non è chiara il poeta esci condensò l'essenza del baol in questi versi e di notte di notte ci va di camminare il maestro cara condensò l'essenza del baol nel baol vvci arte marziale del baol codardo o della dignità del fuggiasco egli inventò sette stili lo stile della tartaruga tappati al chiuso e non venire più fuori lo stile del ghepardo scappa su un albero o su un punto elevato lo stile del granchio pedala all'indietro lo stile dello scarafaggio nasconditi sotto qualcosa lo stile della mosca fingiti morto lo stile della lepre scappa più veloce che puoi lo stile dell'elefantino chiama in aiuto degli amici molto grossi si battè battendosela duecentododici volte e non fu mai raggiunto né colpito la duecentotredicesima affrontò numerosi nemici e ne fece polpette perché stavolta non sei scappato di chiesero non mi sentivo bene rispose disteso sul letto meditai questa difficile e indisponente essenza della mia filosofia e delle filosofie in genere sentì il gospel delle ambulanze dei clacson sentì le stelle che si consumavano e la marea della fame e della sazietà in milioni di corpi e le molle del letto gemere e gli infiniti intrecci che in quel momento si preparavano perché io potessi dirigermi verso il mio segreto la testa mi girò per i troppi distillati di erbe ingeriti quella sera e negli ultimi trent'anni mi sedetti nella posizione baol del cane mendicante col secchiello in bocca e aspettai il lavandino cantava rocco la vecchia tappezzeria weinerbaum mi ipotizzò con le sue geometrie cominciai a vedere piccole cose nette con antenne che ci scorrevano sopra poi mi sembrò che entrasse un fantasma era vestito di bianco azzurro disse qualcosa con tono gentile si diresse verso il mio letto lì con gesti veloci aggraziati iniziò a fare una danza con le lenzuola le faceva volare in aria poi le faceva ricadere come solo i fantasmi sanno fare con le lenzuola al termine della danza il letto che prima recava le disordinate tracce dei miei sonni e dei miei incubi era miracolosamente liscio e immacolato il fantasma aveva portato sul letto la quieta del suo mondo impalpabile ciò fatto mi guardò a lungo come se attendesse un gesto da me poi mormorando qualcosa si dileguò il tempo passava lento ora vi parlerò del mio segreto da quando sono nato le cose mi hanno abbandonato fin qui niente di strano incontrarsi e separarsi e il movimento unico e necessario con cui si traccia il nostro passaggio nel vuoto baolian libro secondo pagina 184 ma per me è stato diverso le cose mi hanno sempre e solo abbandonato quando ero piccolo giocando con gli amici nelle strade allora alberate della città i nostri giochi erano per lo più autoreferenziali si diceva così tra noi bambini eravamo burattinai e burattini generali e soldatini ingegneri di piste per palline tracciatori di limite e confini erano giochi che andavano inventati e coordinati in cui serviva perciò una fantasia e un e un organizzatore io ero bravo in tutte e due i settori facciamo che io ero lo sceriffo e voi gli indiani e voi mi prendevate prigioniero io scappavo e facevo crollare la diga e l'acqua ci portava via tutti e io facevo l'inondazione col secchio ed ecco che sul più bello della preparazione del gioco mentre correvo tutto rosso e sudato a cercare penn indiane secchi d'acqua mi guardavo intorno e spariti i miei amichetti erano tutti spariti li cercavo per strada e vicoli ma non li trovavo più magari si rifacevano vivi dopo un mese e poi di nuovo sparivano perché a 14 anni comunicai ai miei genitori l'intenzione di studiare il baol già da tempo si erano resi conto che non erano adatto a una vita normale e convenivano che non c'è niente di più bello di un figlio che va per la sua strada feci la valigia andai commosso a salutarli e spariti non li trovai né in casa né altrove misi anche un annuncio sul giornale sono stati smarriti due genitori indossano lei un tailleur vigogna e un cappello con piume di dodo lui un pigiama rigato con ampia scollatura scrutale e pantofole marmotti formi rispondono ai nomi di bedropia e bedneck chi ne avesse notizie e pregato nessuna notizia mai più perché eppure so che mi volevano bene aveva un amico carissimo il nome piotre insieme entrammo nei perturbatori urbani lanciamo molotov di cent'erbe e quadrelli medievali sabotammo semafori saccheggiamo cartolerie scassinammo flipper decapitammo telefoni liberammo visoni immettemmo avanotti affiggiamo manifesti pestammo avversari iscrivemmo proseliti contestammo missili coltivammo canapa rapinammo orefici amammo lottammo credemmo io ispirai le sue azioni e lui le mie le mie donne erano anche le sue che io volessi o no una notte eravamo insieme a scrivere sui muri della città assassini dopo di noi passava il comitato politico e aggiungeva i nomi degli infami prescelti stavamo dipingendo l'argine di un fiume quando udimo le sirene della polizia scappiamo gridai nessuno mi rispose sparito la polizia mi catturò e il mio amico piotre non venne mi aiuto perché in galera fece amicizia con un bel tipo si chiamava candido una vita difficile era entrato in galera sei anni per aver rubato una giostra lo rifiutò di dire a come aveva fatto b dove l'aveva nascosta in carcere scoprì le parole crociate grazie ad esse si laureò in geografia e diventò un bravo cittadino uscì perfettamente recuperato tranne una piccola idiosincrasia non sopportava chi gli diceva è inutile che le dica che oppure non devo certo ricordarle che ne picchiò sedici in un mese lo rimisero dentro scontò la pena quando fu nuovamente rilasciato il direttore del carcere gli disse è inutile che le dica che speriamo di non vederla più qui lo strangolò condannato al vergastolo si mise a fare sculture con i fiammiferi galeoni per lo più in cella diventammo amici insieme elaborammo un grande progetto la storia del mondo a fiammiferi ci preparammo a lungo e una notte tutti eccitati decidemmo che l'indomani avremmo iniziato con la nascita dell'uomo la mattina dopo candido non c'era più sparito evaso perché poi conobbi lei alice alice hawk ricordate questo nome già ve ne ho parlato alta bionda eccetera la incontrai nel locale dove lavoravamo tutte e due come maghi dopo lo spettacolo c'era la selezione regionale del concorso sederino d'oro si aggiravano culi dentro mantelli da cuclus clan era difficile fare conversazione non eravamo in giuria perché la invitai a ballare nella sala piccola dove c'era l'orchestra dissi al pianista suonami il solito per favore lui attaccò il tema di per rimeso la sigla del mio numero colloca non era proprio quello che volevo ma ballamo ugualmente io le raccontai la mia vita fino a 30 anni l'orchestra suonava mi han detto che ti piacciono i ragazzi col ciuffo lei mi raccontò la sua vita fino a 22 anni l'orchestra suonava zombie la mouche io le raccontai la mia vita dai 30 in poi l'orchestra se ne andò a dormire provai a baciarla e lei disse no ti prego non ora io le chiesi perché lei disse perché voglio che succeda nel momento giusto e io le dissi questo è il momento giusto e riprovai a baciarla e lei disse no ti prego non ora la donna delle pulizie cantava nessun dorma io la strensi più forte e lei non si sottrasse alla mia stretta potevo sentire il suo cuore batteva insieme al mio le dissi non ho mai conosciuto una donna come te e lei altrettanto l'orchestra da tornate suonava i gun e roses improvvisamente mentre le raccontavo il mio trentaseiesimo anno di vita e precisamente un trasloco nel quale avevo perso dei calzini a me molto cari vidi dipingersi sul suo volto il momento giusto la baciai e lei altrettanto l'orchestra applaudì lungamente e il contrabassista venne personalmente a congratularsi poi io dissi andiamo da me o da te no ti prego disse lei la prima volta vorrei che fosse in un posto speciale io abitavo nella pensione astra alla camera 6 lei alla camera 7 prendemmo la camera 8 matrimoniale con bagno e vista su casse di birra ci amammo due anni sei mesi e tre giorni lei ogni notte si alzava e andava alla finestra la ricordo con la schiena nuda il lenzuolo attorno alle reni come una statua i capelli un'onda di splendore che traboccava le luci della notte un dito che tracciava figure incerte sulla finestra appannata io mi svegliavo per il cigolio e le dicevo dormi e lei no pensi sì a questo punto mi riaddormentavo avrei forse dovuto starle più vicino avrei dovuto chiederle a che cosa pensava una notte presi sette caffè per stare sveglio la sentì alzarsi dal letto e andare alla finestra sembrava triste forse perché quella volta la finestra non era appannata e non poteva disegnarci sopra aveva anche dimenticato il lenzuolo dormi le chiesi sì disse lei ci pensai un po e poi mi riaddormentai forse aveva voluto dirmi qualcosa ma ma io non avevo capito non l'ero stato vicino sempre neppure in quel momento la mattina quando mi svegliai non c'era più sparita perché il portiere disse addirittura che aveva sempre creduto che nella nostra camera abitasse una sola persona dove era andata eppure ero certo che mi amava e forse questo il segreto della mia vita ma all tanto tempo è passato sono sempre stato solo da allora solo come ora mentre in quest'alba violacea piloto la mia zaz rossiccia sull'autostrada grigiastra che porta fuori città dal groviglio verso il silenzio attraverso polvere ruggine che galleggiano nell'aria là dove non c'è né città né campagna né fiori né deserto dove un sole preistorico illumina colori chimici passo davanti ai campi di concentramento per tossicodipendenti e ai silos di droga sono diretto al palazzo del paradiso la radio gracchiano rock malefico elicotteri ronzano nel cielo forse pioverà grazie 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 grazie